L'attesa è finita, Real Ortese torna in eccellenza. I ragazzi del Prete hanno battuto il rimonto e il Miano, centrando l'obiettivo con un turno in anticipo. Fessa grande in città per il ritorno nella categoria dopo tre anni. Nel pre-partita la tensione si dà agli affette. In palio ci sono tre punti che per la capolista significano promozione, per i neapoletani sorpasso. Prima fase di studio, poi all'ottavo insidiosa punizione di insignie che costringe da Andrea la respinta. Gli ospiti non sanno a guardare, passano quando il cronometro segna l'undicesimo. Verde pennella per Attone che di testa insacca. Mi hanno in vantaggio e gara in salita per l'Ortese. Ma i casertani sono consapevoli della propria forza e iniziano ad assediare l'area ospite. Minuto 17, Romano tira a botta sicura, da Andrea smanaccia il rompe di palma che fa 1-1. Il gol rivitalizza i bianco-blu che continuano a premere. Qui è insignia che ci prova con un pallonetto, fuori di un niente. Canneva prova a scuotere i suoi ma è ancora insignia a mettere i brividi con una girata bloccata a terra dall'estremo difensore. Dopo l'intervallo subito occasionissimo per l'Ortese con un contropiede di Di Palma che sfiora il vantaggio. Al 22esimo l'episodio che potrebbe cambiare volto al match. Chianese rimedia il secondo giallo lasciando i suoi in inferiorità. Capitan Granata tenta da fuori trovando già Laurito attento e all'improvviso un guizzo di insignia e rompe l'equilibrio. Il numero 10 si invole in contropiede, disorienta Masturzo e con un destro fulmina d'Andrea. È l'apoteosi perché il Miano non ne ha più pur potendo contare sulla doppia superiorità numerica dopo l'espulsione di Giannino. Al triplice fischio si può stappare lo Champagne. L'area all'Ortese è tornata grande.